30 anni di fondazione. Da 30 anni, punto di riferimento dello studio scientifico e della promozione del patrimonio storico-culturale del territorio calorino, da tempo impegnato anche nella riscoperta e nella valorizzazione degli aspetti più significativi della cultura locale, incentivando il recupero della tradizione attraverso varie attività, dalla realizzazione di pubblicazioni e di approfondimento linguistico, alla rievocazione delle feste popolari legate al carnevale. Con la realizzazione e l'attiva gestione del museo Alcunei di Dosoledo, ha creato un importante polo culturale per l'intero cadore. Grazie a questa nostra comunità catoina che dalla dall'embo nord di questa comunità ci ha voluto ricordare quanto abbiamo fatto per rendere omaggio alla cultura delle generazioni che ci hanno preceduto in come una cultura di di mille anni di condivisione, di solidarietà, di eguaglianza sotto il segno e il marchio delle regole. Quindi noi siamo particolarmente soddisfatti di aver realizzato una testimonianza in forma del museo di Alcunei per rappresentare le nuove generazioni, quei valori che andrebbero molto bene se rivitalizzati anche oggi. Quindi grazie a questa vostra menzione è una particolare emozione da parte nostra perché non sapevamo tra l'altro che esistesse questo registro nel quale adesso siamo contenti di essere stati infilati. Grazie.